Salve, sono Federico Corri dell'Università di Bolzano, insegno didattico della Fisica presso la Facoltà di Scienze della Formazione a Bressanone. Con questo video vorrei parlarvi di un progetto europeo che si chiama FCHGO sulle tecnologie delle celle a idrogeno in preparazione delle nuove generazioni alla cultura dell'energia rispettosa dell'ambiente. FCHGO, che vuol dire Fuel Cell Hydrogen Educational Model for Schools, offre tramite il suo sito fchgo.eu materiali didattici a disposizione delle scuole e quindi degli insegnanti, ma anche delle famiglie e degli alunni, informativi sull'idrogeno e sulle sue tecnologie. I partner di questo progetto sono sei, di cui tre italiani e l'Università di Bolzano è partner proprio di questo progetto con la sua Facoltà di Scienze della Formazione. Dopo l'introduzione alla tecnologia delle celle a combustibile idrogeno, mostrerò i materiali didattici proposti da FCHGO e parlerò brevemente di FCHGO a Bolzano. Ci sono almeno tre argomenti a favore delle tecnologie delle celle a combustibile idrogeno. Innanzitutto, l'idrogeno può essere una fonte rinnovabile di energia. I combustibili attualmente utilizzati, carbone, petrolio e gas naturali, sappiamo che necessitano di milioni di anni per essere riprodotti. L'idrogeno, invece, può essere ottenuto utilizzando fonti rinnovabili di energia. Inoltre, bruciando idrogeno o utilizzandole nelle fuel cell, come vedremo, si produce soltanto acqua. Bruciando, invece, i combustibili usuali, si creano sostanze dannose per l'ambiente che possono inquinare l'aria, inquinare l'acqua, ma si producono anche gas come anidride carbonica che contribuisce al riscaldamento globale del nostro pianeta. Infine, l'idrogeno utilizzato nelle fuel cell in particolare è molto efficiente dal punto di vista energetico. Bruciare combustibili comunque è sempre uno spreco. Passare attraverso il calore è sempre uno spreco. L'idrogeno si presta all'interno delle fuel cell per offrire la sua energia tramite un processo elettrochimico direttamente utilizzabile tramite l'elettricità. Una cella combustibile, come vediamo in alto a sinistra in questa foto, è un dispositivo elettrochimico in grado di accoppiare due processi, uno elettrico e uno chimico, appunto. La più elementare cella combustibile utilizza idrogeno che reagendo con l'ossigeno produce acqua e con l'energia messa a disposizione da questa reazione chimica, siccome idrogeno e ossigeno sono sostanze a potenziale più alto rispetto all'acqua, con l'energia prodotta da questa reazione, la cella elettrochimica consente di inalzare la tensione delle cariche elettriche che vengono messe a disposizione per un processo esterno. In pratica è molto simile a quello che succede in una comune batteria, con la differenza che in una cella combustibile l'idrogeno, l'ossigeno e l'acqua, cioè i reagenti e i prodotti della reazione, sono continuamente forniti o evacuati dalla cella combustibile, mentre nelle normali pile, nelle normali batterie, le sostanze chimiche sono contenute nella batteria, nella pila e in generale sono sostanze nocive per noi e per l'ambiente. Come potrebbe essere una tecnologia basata sull'idrogeno? Innanzitutto l'idrogeno può essere prodotto con fonti energetiche rinnovabili, come ad esempio la luce del sole o il vento, quando ad esempio non ne abbiamo bisogno, quando produciamo elettricità utilizzando pannelli fotovoltaici o pale eoliche, nei momenti in cui non ce n'è bisogno. In questo caso l'elettricità potrebbe essere utilizzata in opportune centrali, tramite l'elettrolisi per produrre idrogeno. Questo idrogeno sarebbe un modo per immagazzinare energia per poi essere utilizzata al bisogno o nelle case o nell'industria o comunque in tutti i casi in cui abbiamo bisogno di energia a disposizione. Per che cosa è utile quindi la tecnologia FCH? Dove oggi utilizziamo i combustibili tradizionali, in futuro si potrebbe utilizzare l'idrogeno, quindi nei trasporti, nella produzione di elettricità per l'industria, nel riscaldamento. I combustibili inoltre vengono normalmente bruciati, quindi in realtà la prima cosa che succede è che viene prodotto calore. In una cella combustibile invece l'idrogeno non è bruciato, ma viene utilizzato direttamente in un processo elettrochimico. La tecnologia FCH potrebbe potenzialmente sostituire quindi il nostro attuale uso di combustibili per il riscaldamento, per l'elettricità e per il trasporto, utilizzando processi rinnovabili più puliti e più efficienti. Perché quindi la tecnologia ha idrogeno? Innanzitutto l'idrogeno può essere prodotto, dicevo, con processi rinnovabili, ad esempio l'elettrolisi, che vedremo fra poco. Inoltre utilizzando l'idrogeno nelle celle a combustibile, si crea soltanto acqua, e vedremo che cos'è una cella combustibile, come è fatta, ed è più efficiente dal punto di vista energetico, e vedremo il confronto rispetto alla combustione termica. L'elettrolisi è un processo che si può anche riprodurre a casa con materiale di recupero. Sono sufficienti due mine per le matite di grafite. Colleghiamo le due mine ai due poli di una batteria e le immergiamo in un bicchiere d'acqua acidulata o nella quale abbiamo preventivamente sciolto del sale. Dopo poco tempo vedremo che sulle due mine, gli elettrodi, si cominceranno a formare delle bollicine di gas. Le bollicine di gas che si formano al polo positivo, all'anodo, sono quelle di ossigeno. Mentre le bollicine di gas che si producono al polo negativo sono di idrogeno. Potremmo raccogliere queste bollicine di gas di idrogeno e ossigeno, metterle in un'unica provetta e ad esempio con un fiammiferlo farle bruciare e ottenere di nuovo l'acqua da cui questi gas sono stati ottenuti. Come è fatta quindi una cella combustibile? Una cella combustibile è un dispositivo che fa sì che la reazione tra idrogeno e ossigeno, quella che abbiamo fatto avvenire noi dopo l'elettrolisi, non avvenga per un incontro diretto fra idrogeno e ossigeno che produrrebbe anche molto calore. ma è un dispositivo che consente questa reazione chimica idrogeno più ossigeno per dare acqua in maniera controllata. In pratica all'interno della cella combustibile c'è un sottile strato di polimero che lascia passare soltanto ioni positivi e quindi consente agli ioni di idrogeno di migrare e andare dall'altra parte per unirsi agli ioni di ossigeno. Gli elettroni dell'idrogeno per farlo diventare ione dovranno invece seguire un circuito esterno ed è proprio questo circuito che sarà utilizzato dai nostri utilizzatori. Una fell shell quindi in basso a destra la possiamo schematizzare come qualcosa all'interno del quale mettiamo idrogeno e ossigeno e ci restruttisce acqua a un potenziale molto più basso. L'energia liberata in questa reazione chimica sarebbe utilizzata dalla elettricità per innalzarsi di potenziale e quindi poi essere pronta per essere utilizzata con piccola produzione di calore che fa sì che l'efficienza di questa fell shell sia dell'ordine del 40-60% ricordiamoci questo numero questo 40-60% confrontiamo invece ora un processo termico rispetto a un processo elettrochimico come abbiamo appena visto vediamo già che l'efficienza è del 20-40% al massimo cerchiamo di capire perché quando bruciamo qualche cosa che sia un combustibile convenzionale ma che sia anche idrogeno produciamo calore e quindi portiamo la nostra energia che avevamo nelle sostanze chimiche nel calore il calore però dal calore però potremmo estrarre soltanto un 20-30-40% dell'energia che abbiamo utilizzato per produrlo perché la temperatura ambiente è troppo alta rispetto allo zero assoluto che si trova a meno 273 gradi centigradi sotto lo zero questa è una limitazione che fa sì che le combustioni termiche dalle combustioni termiche spendendo 100 per produrre il calore da questo calore possiamo sempre estrarre soltanto da 20-40% è come se dovessimo spendere l'energia per prendere l'acqua dal livello del mare e portarla magari a 2000 metri su una montagna e poi da quest'acqua estrarre soltanto l'energia della caduta degli ultimi 200 metri sprecando tutta l'energia che rimarrebbe nell'acqua se fosse portata fino all'iva del mare dove l'abbiamo raccolta anche in questo caso spenderemo 100 per ottenere indietro una piccola percentuale in sintesi quindi utilizzare l'idrogeno nelle celle a combustibile è vantaggioso per l'ambiente l'idrogeno come vettore di energia può essere prodotto in condizioni favorevoli quando ad esempio non abbiamo bisogno dell'elettricità prodotta dalle pale eoliche o prodotta dai pannelli fotovoltaici può essere quindi immagazzinato trasportato e utilizzato al bisogno infine sostituire i combustibili convenzionali e comunque evitare il processo di combustione è vantaggioso dal punto di vista energetico vediamo ora i materiali didattici che propone nel progetto FCHV innanzitutto propone agli insegnanti un'introduzione generale alle tecniche FGH e infine una guida per l'insegnante che riguarda tutti gli altri materiali propone poi per i più piccoli dagli 8 ai 12 anni una storia didattica sulla Apple Story e un video didattico sull'energia per alunni un po' più grandi produce propone giochi di nuovo di ruolo sull'energia schede didattiche per analizzare dei giocattoli dal punto di vista energetico in particolare la macchina a idrogeno propone giochi sull'energia e per i ragazzi più grandi offre lezioni in forma di presentazioni sul cambiamento climatico su fonti energetiche rinnovabili sulla pila di volta sulle celle a combustibile e in generale sull'energia cosa fa il progetto FGH Go a Bolzano innanzitutto sono in atto sperimentazioni in diverse scuole dei materiali di FGH Go in 6 scuole diverse a Bolzano ma i materiali didattici sono disponibili per tutte le scuole sul sito come dicevo prima inoltre e questo è molto importante è aperto un concorso internazionale dal titolo Il mondo del futuro la migliore applicazione FCH rivolta a tutte le scuole della primaria e della secondaria le squadre dovranno immaginare future applicazioni delle tecnologie con la loro immaginazione e nell'aventi tutti i giorni il regolamento si trova sempre sul sito infine nel periodo di emergenza covid-19 il sito offrirà materiali e attività direttamente utilizzabili dalle famiglie e dagli alunni con questo vi ringrazio e vi invito ad andare a visitare il sito del progetto FCH Go e vi saluto FCH Go e vi saluto FCH Go